Ben ritrovati con AgriMag News. L'inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana, ma si sa ancora troppo poco sulla portata e gravità di tali minaccia, avverte un nuovo rapporto della FAO pubblicato a maggio. L'industrializzazione, le guerre, l'estrazione minerale e l'insensificazione dell'agricoltura hanno lasciato in tutto il pianeta un'eredità pesante in termini di contaminazione del suolo, mentre con l'aumento dell'urbanizzazione è cresciuto lo smaltimento dei rifiuti urbani nel terreno. L'inquinamento del suolo colpisce il cibo che consumiamo, l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo e la salute dei nostri ecosistemi. La capacità dei suoli di far fronte all'inquinamento è limitata, prevenire il loro inquinamento dovrebbe essere una priorità globale, sottolineano alla FAO.